Il campo basso continua a fare punti e prestazioni volitive sotto la guida di Massimo Silva. Per lui 10 punti in 4 partite da tecnico rosso-blu. La vastese si arrende giocando davvero male e senza verve per Favo. Due partite altrettante sconfitte e uno striscione non troppo velato nei distinti che recita Vergognati, mister vertenza. Si gioca di fronte a circa 500 spettatori. La grandissima area antistante Selvapiana diventa finalmente agibile per il parcheggio delle auto. All'ottavo Mancino di Grazioso si tuffa Rinaldi, la palla è sua. Al quarto d'ora il pubblico di Selvapiana chiede il rigore al signor Catallo. Motivo, un presunto fallo di allocca su Grazioso, ma si può giocare. La partita a ritmi davvero bassi e mette in evidenza tanti errori da entrambe le parti e rarissime occasioni da rete. Con le immagini andiamo direttamente al 33esimo. Iaboni illumina con un taglio per Martiniello, il quale si produce in un bel pallonetto che termina alle spalle di Rinaldi. Grandissimo merito alla punta di casa blanda la marcatura di Mensà. Il gol scuote anche il pubblico dopo una prima lunga parte di gara assolutamente soporifera. Al 38esimo raccoglie palla dal limite fazio che conclude con sfera out. Il campo basso merita pure, avendo avuto il pregio quantomeno di provarci rispetto alla vastese bruttissima la prova degli abruzzesi. Favo corre ai ripari nell'intervallo dal primo della ripresa fuori Mensà, dentro Colitto dopo un minuto e mezzo del secondo tempo. Punizione di Grazioso in prota, raccoglie dal fondo e crossa benissimo per l'inzuccata di Martiniello. Palo e gol, raddoppio di casa e doppietta del baby attaccante. Vasto frastornato al quinto pallone alzato da Russo, aggancia e conclude subito Prisco ma troppo centrale. Blocca Palumbo, Favo mischia le carte dal dodicesimo dentro il veterano Galizia, fuori Romano. Gli ospiti senza più nulla da perdere passano di fatto alle quattro punte. Capobasso che dimostra di poter gestire al sedicesimo Martiniello ruba palla all'avversario dal limite e cerca il tris personale. La palla si alza sopra la traversa, vasto che ci prova ma senza mordente. Al ventesimo verticale di Felici per Prisco, molto defilato, fa terminare il pallone sull'esterno della rete. A creare più grattacapi sono comunque i locali. Al ventiseiesimo tiro cross velenoso di Corbo, una zolla irregolare, probabilmente tradisce l'under di casa. Dal ventinovesimo Favo stromette un Prisco inguardabile per inserire l'ex Termoli Santoro. Alla mezz'ora destro sballato da parte di Manisi il tutto, mentre il russo del campo basso era a terra infortunato. Al trentacinquesimo Felici scocca un tiro fuori aria. Palumbo si deve rifugiare in calcio d'angolo. Un minuto più tardi il mattatore di turno Martiniello lascia il campo tra gli applausi a D'Aversa. Al quarantesimo traversone di Felici stacca a Fiore, palla alta. Silva ridisegna l'attacco con l'ingresso al quarantaduesimo di Fioretti al posto di Improta. Altre emozioni concentrate nel finale, come l'irruzione al quarantaquattresimo di Esposito, sventata dalla manona del portiere abruzzese Rinaldi. Silva decide anche per l'ingresso di Vitelli, cui toccano circa due minuti di partita. Entra al quarantottesimo e trenta secondi al posto di Fazio. Il signor Catallo di Frosinone opta per un minuto di recupero supplementare. Al cinquantesimo l'ultima sortita ospite è il gol. Galizia dal fondo mette in mezzo libera Russo sfortunato a trovare Fiore che effettua una girata vincente da terra. Tra andata e ritorno il campo basso non lascia nemmeno un punto alla vastese. Domenica visita Rosso Blu al San Nicolò per riscattare il pesante 5 a 1 del girone di andata.